Buonasera e ben ritrovati come ogni mercoledì alle 21.30 in punto negli studi di Una Mela al Giorno. Parliamo oggi di disturbi specifici dell'apprendimento. Dal 2010 è stata emanata una legge che riconosce questa tipologia di disturbi, ma che cosa sono nello specifico e soprattutto la scuola italiana è pronta ad accogliere i ragazzi che soffrono di questi disturbi. Ne discutiamo questa sera con le nostre prime due ospiti che vi vado immediatamente a presentare. Alla mia sinistra c'è la dottoressa Valentina Belli, l'ocopedista del CRC e invece da quest'altro lato abbiamo la dottoressa Eleonora Pasqua. Benvenute ad entrambe. Buonasera. Buonasera a voi. Allora io darei la parola innanzitutto alla dottoressa Belli per inquadrare un po' questi DSA, disturbi specifici dell'apprendimento. Che cosa sono? Allora intanto la ringrazio per questa domanda. Diciamo che andare a definire i disturbi specifici dell'apprendimento più solitamente conosciuti con l'acronimo DSA permette di sfatare alcuni falsi miti legati al fatto che spesso queste difficoltà scolastiche sono attribuiti allo scarso impegno magari da parte dell'alunno, del bambino. Un bambino identificato come pigro, svegliato. Spesso si incorre anche nell'errore di definire questi disturbi come una patologia. Dunque iniziamo a dare subito una definizione chiara. I disturbi specifici dell'apprendimento sono disturbi del neurosviluppo, disturbi che racchiudono nell'insieme quelle difficoltà legate ad abilità di lettura, scrittura e calcolo. Ovviamente a seconda dell'abilità specifica compromessa parleremo di dislessia quando la difficoltà è legata all'abilità di lettura. Quindi ci accorgiamo di avere davanti una lettura abbastanza lenta, una lettura poco accurata. Quando la difficoltà riguarda, interessa l'aspetto della componente ortografica, quindi dell'acquisizione delle regole ortografiche della scrittura, ci riferiamo alla disortografia. L'aspetto esecutivo grafico del tratto grafico della scrittura individua il disturbo della disgrafia e per ultimo abbiamo una difficoltà nell'ambito del calcolo, dell'area del calcolo e quindi identifichiamo questo disturbo con il nome di discalculia. Ora, sono disturbi specifici perché? Perché sono tutti indipendenti da altri deficit di tipo funzionale, cognitivo ed intellettivo, indipendenti da deficit neurosensoriali e indipendenti da situazioni di svantaggio socio-culturale. Questo che cosa significa? Parafrasando un po' la definizione data dal manuale diagnostico, vuol dire che abbiamo davanti un bambino che fondamentalmente ha un buon funzionamento intellettivo, quindi sono bambini estremamente intelligenti, a volte anche oltre la media, bambini molto creativi che non hanno altre difficoltà in altri ambiti cognitivi e soprattutto sono ben inseriti in quello che è il contesto favorevole all'apprendimento. Perché non dobbiamo identificare questi disturbi come delle patologie? Perché in realtà rappresentano una caratteristica, quindi una diversa modalità di apprendere. Sono disturbi di natura neurobiologica legati al fatto che ci sono delle anomalie a carico dei circuiti neurofunzionali abilitati a quelle abilità specifiche. Quindi fondamentalmente quando si fa diagnosi di un DSA bisogna tener conto di questi criteri di inclusione e di esclusione diagnostica. In particolar modo la diagnosi può essere fatta solo a partire dalla fine della seconda classe della scuola primaria. Questo perché? Perché bisogna dare il tempo al bambino di apprendere, quindi di iniziare quello che è il suo normale processo di scolarizzazione. Se al termine di questi anni ci accorgiamo che le difficoltà sono persistenti, allora è bene indirizzare verso uno studio diagnostico. Questo per quanto riguarda la dislessia, la disortografia, la discografia. Addirittura bisogna attendere la fine della terza della scuola primaria per poter fare diagnosi di discalculia. Chi fa diagnosi? La diagnosi è a carico del medico competente, nella fattispecie del neuropsichiatra infantile, che però si avvale delle valutazioni di tutte le altre figure professionali coinvolte, non solo il logopedista che valuterà le abilità strumentali, quindi dell'apprendimento, ma ci sono anche altre figure coinvolte, in primis il neuropsicologo. Perché? Perché associate a queste difficoltà ci sono altri aspetti da tenere in considerazione, aspetti legati alla parte motorio-prassica, ad esempio. Sono bambini che hanno difficoltà anche, per esempio, nella coordinazione motoria. Oppure ci sono altre difficoltà legate a tutte le funzioni, altre funzioni cognitive, la memoria di lavoro, l'attenzione, e quindi questo richiede la valutazione da parte del neuropsicologo. Quindi un lavoro dato dall'equip multidisciplinare permette la diagnosi, appunto, di DSA e poi l'eventuale presa in carico logopedica e quindi di trattamento. Certo, una volta, diciamo, avvenuta la diagnosi, ovviamente il bambino deve essere accompagnato lungo un percorso di crescita. Il bambino diventa un ragazzo, diventa un adolescente. Ecco, dottoressa Pasqua, come cambia l'approccio quando questo individuo a cui è stata fatta una diagnosi di DSA cresce? Allora, sì, sicuramente, insomma, bisogna tener conto di diversi fattori. Come ha detto la dottoressa Belli, questa è una difficoltà molto specifica che ha dei caratteri sia evolutivi che persistenti. Questo che cosa vuol dire? Che ha un esordio durante il periodo, appunto, di scolarizzazione, quindi in età evolutiva, ma accompagna il ragazzo in tutte le sue fasi dell'apprendimento e in realtà non scompare, non scompare neanche con la terapia. La terapia sicuramente ha un impatto positivo ed è necessaria perché riesce a incrementare le competenze deficitarie, quindi sicuramente è necessaria. Però bisogna tenere in mente che comunque è un disturbo che in qualche modo, appunto, cambia la sua natura e la sua espressività e permane nel tempo. E bisogna sapere cogliere le diverse caratteristiche. Nei ragazzi più grandi, per capire che cosa succede nei ragazzi più grandi, dobbiamo entrare, anche se brevemente, in un aspetto un po' più tecnico. Ovvero, che cosa succede quando un bambino inizia a leggere? Quando inizia a leggere, tutti noi, quando abbiamo iniziato a leggere, in realtà abbiamo impiegato tutte le nostre energie per capire come funzionava quel tipo di meccanismo, quindi riconoscere le lettere, saper dare un suono alle lettere, assemblarle in sillabe, in parole, dare un significato. Questo implica tanto sforzo cognitivo, tant'è vero che all'inizio, nei primi due anni, come ha detto la dottoressa Belli, non si può fare di gnagnosi perché ciascuno dei ragazzi è impegnato in questo tipo di nuovo apprendimento. Dopo un po', questo processo inizia a essere più fluido, più automatico e questo ci permette di poter leggere, cogliere le informazioni senza impiegare così tanta difficoltà e così tanto sforzo cognitivo nel farlo. Cosa succede nei ragazzi con disturbo apprendimento? Il disturbo dell'apprendimento può essere anche definito come una non automatizzazione dei processi, ovvero questo tipo di meccanismo in realtà non si automatizza, neanche nel tempo. Quindi, anche se con la terapia sicuramente si può arrivare a un buon livello di correttezza nella lettura, anche se si riesce ad arrivare a fare meno errori quando si scrive, in realtà quel processo è sempre molto lento e implica per il ragazzo tanto sforzo, quindi per leggere e comprendere quello che io leggo, se sono un ragazzo dislessico, ci metto tanta fatica e più tempo probabilmente. Questo che cosa implica quando man mano cresco? Le richieste scolastiche si alzano, quindi io non dovrò più leggere semplicemente per leggere, ma dovrò leggere per studiare, per capire, per ampliare le mie competenze, le mie conoscenze. Quando si legge, per riflettere su quello che si legge, una parte del mio processo deve essere automatico, non devo più pensare a come si legge, ma devo pensare a che cosa sto leggendo, a come collegare quello che leggo a quello che già so, a come trovare le informazioni che non conosco. Allora, questi sono in realtà gli ambiti in cui un ragazzo ha più difficoltà quando cresce, un ragazzo con disturbo dell'apprendimento, quindi quello che può succedere per ragazzi più grandi è trovarsi di fronte a dei ragazzi che sembrano avere, non abbiano difficoltà specifiche, nel senso leggono abbastanza bene, magari fanno qualche errorino, ma non tantissimi, perché forse hanno fatto anche un buon percorso di terapia, però hanno difficoltà a studiare, hanno difficoltà a ripetere, perché hanno difficoltà a integrare le informazioni più importanti, hanno difficoltà a fare un tema che sia ben articolato, hanno difficoltà in tutte quelle che sono i compiti più alti di studio. Quindi, per rispondere alla sua domanda, che cosa bisogna fare? Allora, sicuramente bisogna saper riconoscere anche questi indici, perché spesso sono confusi, come diceva prima la dottoressa, con altri tipi di situazioni, che possono essere demotivazione del ragazzo, scarsa compliance con gli aspetti scolastici. E poi, anche la terapia e la scuola deve prendersi carico di questi aspetti, con un intervento più specifico su delle abilità più complesse. Quindi, noi accompagniamo i ragazzi, per esempio, nel strutturare un buon metodo di studio, nel riuscire a sviluppare una buona competenza metacognitiva di riflessione, e anche le accompagniamo a conoscere e utilizzare quelle che vengono chiamate gli strumenti compensativi. Cosa sono gli strumenti compensativi? Sono tutti quegli strumenti che proprio aiutano e sorreggono e sostengono la non automatizzazione dei processi per aiutare il ragazzo a studiare, ovvero insegniamo loro a utilizzare, per esempio, la sintesi vocale, il computer, per leggere quello che noi diciamo leggere con le orecchie. I ragazzi inseriscono nel computer i libri digitali, il computer legge, facendo anche vedere la schermata della lettura, ovviamente il testo per loro, e loro possono concentrarsi appunto a capire che cosa il testo gli sta dicendo, a elaborare una mappa concettuale per poter poi ripetere, possono utilizzare degli strumenti di scrittura con un sostegno alla correzione ortografica più ampia, così possono permettersi di riflettere su come si fa un tema e non su quanti errori faccio, e così via. Gli strumenti compensativi sono sia di tipo informatico che non informatico, possono essere anche schemi, possono essere tabelle, e insegnare loro a utilizzarli significa proprio in realtà costruire con loro una competenza, una competenza compensativa e sfruttare al meglio quelle che sono le loro capacità e i loro punti di forza. Questi strumenti e queste competenze sono insegnate in terapia, ma è fondamentale che vengano riconosciute e inserite anche nel contesto scolastico all'interno di quello che viene chiamato il PDP, il piano didattico personalizzato della scuola. Lei prima accettava la 170, ecco, la parte di come compilare il piano didattico personalizzato e gli strumenti compensativi all'interno sono una parte fondamentale anche di questo aspetto, che ha introdotto la legge. Assolutamente, allora entriamo proprio nel vivo di quello che ha introdotto la legge 170 nel 2010 e di quello che a scuola viene fatto o quantomeno andrebbe fatto, perché probabilmente poi la situazione, come spesso accade, non è omogenea su tutto il territorio nazionale. Allora, volevo chiedere proprio al dottoressa Belli quali sono questi interventi che possono essere previsti nella scuola per i bambini, gli adolescenti, i ragazzi a cui è stata fatta una diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento. Dunque, la scuola riveste un ruolo fondamentale, un ruolo importante non solo da un punto di vista preventivo, quindi in grado di andare ad identificare quelli che possono essere degli indici di rischio, dei fattori di rischio, ma ricopre anche un ruolo fondamentale rispetto al potenziamento di queste abilità, di queste competenze. Ora, grazie appunto alla legge 170 c'è stato un grande impatto sul piano didattico, perché? Perché per la prima volta è stata avviata la strada verso quella che possiamo definire oggi la didattica inclusiva, quindi l'inserimento di questi strumenti, l'inserimento di metodologie, anche compensative e dispensative, permette di favorire un apprendimento significativo e permette di seguire quello che è lo stile di apprendimento più appropriato a quel ragazzo a seconda del suo profilo funzionale. Ricordiamo che sono ragazzi che, come dicevamo poc'anzi, hanno una diversa modalità di apprendere e quindi seguire il suo stile cognitivo aiuta a favorire anche il successo scolastico. Ora, la scuola però, appunto, dicevo, ha un ruolo importante anche nella prevenzione. Quando parliamo di DSA, la prevenzione è d'obbligo. Questa prevenzione può essere fatta non solo negli anni di scolarizzazione, quindi pensiamo alla scuola primaria, possiamo addirittura prevedere degli indici predittivi, quindi individuare delle difficoltà già a partire dalla scuola dell'infanzia, perché ci sono una serie di abilità, una serie di competenze che sono di base poi all'acquisizione degli apprendimenti scolastici. Ad esempio, si può andare ad indagare un bambino con uno sviluppo del linguaggio atipico, se ci accorgiamo che quel bambino magari è un magazzino lessicale impoverito, o magari un'espressione verbale abbastanza deficitaria, o, come dicevo prima, delle difficoltà a livello di coordinazione emotore, attentive, ecco, magari quello è un bambino che potenzialmente potrebbe poi incorrere in un disturbo dell'apprendimento, quindi va tenuto sotto osservazione, quindi la scuola ha un'importante capacità osservativa. Quando emergono questi primi segnali, questi primi fattori di rischio, è sempre bene segnalare, dapprima la famiglia e poi indirizzare la famiglia verso le strutture di competenza. È chiaro che l'uso di questi strumenti, che appunto la scuola dovrebbe agevolare, a volte però viene proprio rifiutato dall'alunno, perché magari si sente un pochino diverso dal resto dei suoi compagni, quindi questo rifiuto poi indica magari una diversità. E quindi che cosa succede? Che la scuola, quello che dovrebbe fare è normalizzare l'utilizzo di questi strumenti, di favorire un contesto dove appunto l'obiettivo è ridurre il carico cognitivo e invece favorire più l'interesse cognitivo, quindi favorire quella che è la motivazione anche allo studio, il senso di autoefficacia. Molto spesso accade che appunto questi bambini, pur di non utilizzare gli strumenti compensativi, preferiscono ricercare delle soluzioni alternative. Ora queste soluzioni spesso si rivelano poi disfunzionali, inefficaci e quindi anziché intraprendere la strada del successo scolastico, si intraprende quello del fallimento. Ma più mi sento fallito, più si innescano una serie di aspetti internalizzanti, quindi vado incontro ad ansia, depressione, demotivazione nei confronti dello studio. Allora è bene ricordare che il senso di autoefficacia, la motivazione, è proprio l'obiettivo massimo della riabilitazione in generale, ma anche un obiettivo scolastico. Forse allora a questo punto basterebbe far capire al bambino, all'adolescente, che utilizzando questi strumenti compensativi può raggiungere dei risultati ottimali e così sarà anche invoiato, quindi forse sostanto la prima fase, è probabilmente quella più complicata, quella in cui appunto deve non solo imparare a utilizzare gli strumenti compensativi, ma anche ad accettarli. Anche perché va da sé che i primi anni di scuola possono apparire più semplici, quindi magari il bambino che dice, vabbè io posso anche riuscire in questo modo piuttosto che in quest'altro, effettivamente poi può avere dei risultati, ma bisogna forse trasmettergli anche con l'aiuto di altre professioni sanitari che deve puntare molto più in alto, che può, che ha la possibilità e le capacità di puntare più in alto. Assolutamente sì, può e questo è il problema appunto anche per un DSA adulto, che magari fa delle scelte lavorative che però non sono proporzionali a quelle che sono le sue reali potenzialità. Assolutamente. Dottoressa Pasqua, invece, oltre a questi strumenti compensativi che possiamo usare a scuola o comunque anche a casa, immagino, sempre per migliorare quello che è l'apprendimento didattico, scolastico, abbiamo altre possibilità per aiutare un bambino, un ragazzo che soffre di questi disturbi specifici dell'apprendimento? Sì, certo, assolutamente. Diciamo che faccio anche una piccola premessa, in realtà, ovviamente, come è stato accennato, ma forse non è bene anche dirlo, ovviamente prima degli strumenti compensativi c'è la riabilitazione anche degli aspetti tecnici, questo è importante, cioè i ragazzi possono, anzi, hanno tutte le possibilità per migliorare anche le difficoltà più tecniche, quindi è vero che non automatizzano i processi, ma la riabilitazione, la terapia logopedica, la terapia in equip serve comunque per migliorare le loro capacità di lettura, di scrittura, di calcolo, quindi questa prima parte ha a che fare anche con quello che diceva lei, cioè il bambino può sentire un senso di efficacia, perché comunque lavorando in terapia e con una buona rete scolastica e a casa migliora anche la sua competenza più tecnica, questo è di base, quindi una prima parte dell'intervento è proprio sulle competenze deficitari. Oltre agli strumenti, quindi andando in avanti e quindi accompagnando del ragazzo a 360 gradi, sicuramente è utile poter valorizzare i suoi punti di forza e quindi poter farli sperimentare un senso di autoefficacia, appunto, che vada al di là della competenza scolastica in sé, proprio per renderlo consapevole che si è altro oltre la scuola e si può dare tanto di se stessi, sperimentandosi anche in compiti che magari sono lontanissimi da quello che noi pensavamo di poter fare. Questo è il motivo per cui noi ci teniamo molto ad accompagnare il percorso specifico, sia riabilitativo che compensativo, poi quando crescono, con altri tipi di attività collaterali che possono inserire, appunto, i ragazzi in contesti più motivanti. Quindi offriamo loro la possibilità, per esempio, di partecipare a una redazione ragazzi, cioè noi collaboriamo da tanti anni con una casa editrice di Roma che si occupa di letteratura ad alta legibilità per ragazzi e con loro facciamo proprio un progetto di redazione. Loro ci danno delle bozze che i ragazzi dislessici con disturbo dell'apprendimento correggono prima che venga pubblicato il libro e danno proprio degli elementi, cioè fanno tutto un percorso di correzione sul testo, quindi che ha a che fare con la lettura, con l'essico, con la scrittura, danno delle indicazioni di rispetto, per esempio, a delle parole che possono essere modificate se è troppo difficile, agli accorgimenti morfosintattici, fanno delle veri e proprio corretture di bozze. I testi vengono poi corretti e si fa una redazione vera e propria con la casa editrice che accompagna questi ragazzi nella riflessione su perché vengono fatte alcune correzioni e poi i libri vengono pubblicati, sono in tutte le librerie con i loro nomi come correttore di bozze e quindi loro possono tornare a scuola a proposito dell'auto efficace e dire io, il mio nome è dentro un libro, io che sono dislessico ho corretto un libro che tutti noi possiamo leggere e quindi questo per dire quanto in realtà possono aprirsi ad altro. All'interno del nostro centro c'è periodicamente ogni mese un giornale, un giornalino che è assolutamente curato da loro, quindi ci sono dei gruppi che si occupano delle varie rubriche, un po' come qua, quindi c'è la rubrica salute, la rubrica oroscopo, la rubrica giochi e si incontrano e scrivono articoli che poi vengono pubblicati sia online che in cartaceo all'interno del centro. Vengono organizzati i gruppi di studio in gruppo perché così appunto tra di loro possono confrontarsi rispetto a quello che diceva lei giustamente all'uso degli strumenti compensativi ma anche alla possibilità di cosa ci posso fare con questi strumenti. Guarda, io ho provato a fare questa cosa e la mia interrogazione è andata bene, se vuoi ti aiuto, quindi un peer tutoring, posso dirti come l'ho fatto io, ti posso dare gli schemi che mi sono stati utili e tu puoi riutilizzarli e cambiarli e farli tuoi e il gruppo si può studiare insieme e darsi diciamo delle indicazioni che possono essere più funzionali e corrette. Quindi ecco, farli sperimentare non solo nella loro difficoltà ma soprattutto nelle loro potenzialità perché è un modo diverso di imparare ma anche molto arricchente per tutti noi, quindi insomma ci teniamo tanto. Magari possono anche scoprire di avere delle doti nascoste perché magari appunto soffrendo di questi disturbi non immaginerebbero mai appunto di fare un lavoro come il correttore di bozio o addirittura appunto lo scrittore, il giornalista invece a scoprire di avere un talento e di poter superare quelle che sono le loro difficoltà così da poter essere efficienti ed efficaci nel lavoro che poi andranno a svolgere. Dottoressa Pasqua, un'ultima domanda le volevo fare perché purtroppo il nostro tempo insieme è volato già via. Rispetto all'utilizzo delle nuove tecnologie ha accennato qualcosa ma visto che abbiamo affrontato anni di pandemia, di chiusure, di ristrazione, di lockdown, ecco per quanto riguarda il trattamento dei DSA è stato utile utilizzare il cosiddetto teleconsulto, quindi quelli che sono gli strumenti di televista, di telemedicina? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. La teleriabilitazione, e così insomma da noi viene chiamata, è stata sicuramente diciamo un protagonista in questo periodo che sappiamo tutti per ovvi motivi, però diciamo che è utilizzata nel nostro ambito clinico come una risorsa in più. In realtà già esisteva prima, cioè nel senso che esistono delle piattaforme che permettono la riabilitazione a distanza, cioè comunque la possibilità di seguire un ragazzo attraverso le nuove tecnologie da casa con strumenti pensati e curati ad hoc. Quindi noi nel nostro centro in particolare la utilizziamo già prima con i ragazzi con disturbi dell'apprendimento utilizzando appunto delle piattaforme costruite ad hoc che vengono utilizzate dai clinici per settare diciamo i singoli interventi. Ci dà la possibilità di poter pensare diciamo ad un ampliamento della nostra capacità riabilitativa, perché riabilitare a distanza non vuol dire innanzitutto eliminare la parte in presenza, è un'integrazione. Io posso seguire il ragazzo da casa, però questi tipi di piattaforme, questi strumenti mi permettono di fornire loro anche degli esercizi che loro possono fare anche quando non sono collegate in modalità si chiama asincrona, che io posso però vedere e monitorare a distanza e quindi posso modificare e ridare a loro. Possono fare dei lavori a casa che poi quando vengono in terapia possiamo rivedere e poi permettono anche diciamo una risorsa in più per la famiglia, cioè io posso seguire il ragazzo anche quando non è in grado di venire a studio, posso incrementare la frequenza con cui lo vedo e quindi sicuramente sono una risorsa in più. Lo utilizzavamo prima e diciamo che se vogliamo avere un pensiero positivo il lockdown e la pandemia ci ha permesso di espandere ulteriormente questa esperienza, quindi oltre alle tecnologie che già utilizzavamo, alle piattaforme che già utilizzavamo, ora siamo in grado ormai di sperimentare anche cose molto più ampe, ci siamo formate anche per dare a questi ragazzi la possibilità di utilizzare tante altre cose in tele-riabilitazione. Quindi sicuramente è uno strumento più che a noi è piaciuto tanto e che adottiamo tuttora. Certo sicuramente cercare di trarre diciamo dei punti di beneficio dalla pandemia cerchiamo di farlo stesso qui in questi studi anche per fare in modo insomma che ci lasci anche dei ricordi positivi. Allora io ringrazio la dottoressa Belli per essere stata con noi questa sera. Grazie a voi. E la dottoressa Pasqua. Grazie, grazie a voi. Grazie per l'invito. Ai nostri telespettatori invece dico di restare sintonizzati proprio su questo canale perché una mera al giorno torna tra poco dopo una breve pausa pubblicitaria. Vi aspetto.